Con RS è facile, veloce e soprattutto conveniente rinnovare il colore originale delle vernici senza protezione sbiadite a un elevato potere sgrassante per pulirle dall'ossido che si forma e successivamente le protegge per molto tempo. Due anni dopo l'applicazione è ancora visibile il segno del rinnovo. È adatto a rinnovare il colore di grondaie, cancelli, serramenti, basculanti dei garage, accessori e parti di auto e moto. RS non contiene siliconi, cera, vasellina e nemmeno corrosivi, per cui quando l'effetto decade si può rinnovare. Per ottenere una finitura più lucida, dopo l'applicazione e dopo aver asportato l'ossido con il panno, si procede a un'applicazione più leggera senza uniformare successivamente con il panno. Il prodotto va applicato sulla vernice pulita e asciutta e non resa bollente dal sole. La finitura è subito idrorepellente e sarà asciutta al tatto terminato l'assorbimento. Verniciabile, resistente a detergenti aggressivi e a elevate temperature. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!